Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale, io sono Andrea e come sempre questo è Curiosando Lanzarote. Bene amici, quest'oggi facciamo un giro qui per Porto del Carmen e andiamo a vedere com'è la situazione calima quest'oggi qui a Lanzarote. Ma come sempre ci vediamo dopo per la notizia del giorno. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.